Bentornati, video unboxing di Mario Kart Live! Koopalink! Plancia! Sì, qui Spock! Qui Koopalink! Un teletrasporto per due in sala macchina! Perché per due? Perché c'è anche Mario Kart Live! Dai, su, dai! Fai partire, eh! Ok, va bene! Ma non era questa! Plancia! Qui Spock! Sono Koopalink! Avete sbagliato a teletrasportarmi! Non era sala macchine questa stavolta! Volevo sala macchine automobili! Beh sì, in effetti non è tanto logico! Sempre per due? Sì, un teletrasporto per due! Ok! Grazie! Fantastico, proprio in macchina! Si apre! Vabbè, lo farò qua dentro! Koopalink, al teletrasporto, per favore, visto che mi avete messo in macchina, potreste teletrasportarmi la macchina di Luigi al di fuori della macchina? Grazie! Cartoncini per il tracciato di Mario Kart e cavetto di ricarica per la macchina! Koopalink, a sala teletrasporto, per favore mi teletrasportareste anche quello che ho appena messo sul cruscotto della macchina? Teletrasporto per uno al di fuori della macchina, grazie! Video unboxing terminato, grazie per la visualizzazione, iscrivetevi, mettete like! Ci vediamo nel mio prossimo video! Iscriviti! Iscriviti ora se non l'hai già fatto! Subscribe! Subscribe now! Ah, date anche un'occhiata alla mia pagina Facebook se volete sempre essere aggiornati sui miei prossimi video e se volete avere dei maggiori approfondimenti!